Che soddisfazione è un ingresso del genere, un gol così importante e se la tua stagione si può dire che ricomincia da qui? Sì, prima di tutto è molto bello fare un gol così a un derby e poi aiutare la squadra a vincere con 2-1, cioè è un importante chi fa gol, è importante farlo e quindi sì, sono entrato, praticamente la prima palla che ho toccato, ho avuto la fortuna di fare gol e sono molto felice per questo, sì, ora tanto io come la squadra speriamo di ripartire da qua più forte che mai e di fare il meglio possibile. Da quando sei alla Juve nei derby ti sei sempre particolarmente esaltato, questa forse però è la prestazione più bella in assoluto, però non ti dia un gol bellissimo, una prestazione con tant'è, il tuo sinistro oggi si è visto parecchio. Io sono da 4 anni alla Juve, questa sarà una serie di tanti derby e questo diciamo che è andato molto bene sotto tutti gli aspetti, sotto l'aspetto dell'attacco, anche del difensivo e tutti i derby che ho giocato non ho mai fatto gol e l'ho trovato oggi, è stata un'emozione fantastica appunto perché il derby non è una partita qualunque, lo giochi, lo senti molto, lo senti in settimana, lo senti durante gli allenamenti e non vedi l'ora che arrivi il momento per dimostrare quello che sei veramente in campo e proprio questa partita contro il Toro riesci a farti dimostrare quello che veramente sei perché affronti sempre una squadra di tuo pari livello se non più forte. Hai una dedica particolare a questo gol? Ma a questo gol lo dedico in particolare ai miei genitori che sono venuti qui da Vicenza e sono venuti qui oggi a vedermi e è una dedica particolare perché a loro tengo tanto e voglio portare avanti quello che sto portando avanti in tutti questi anni. Grazie.